salve a tutti in questo breve video parleremo del 2 giugno festa della repubblica italiana vedremo anche il verbo scegliere e il verbo votare il 2 giugno è festa nazionale in italia perché il 2 e il 3 giugno 1946 in italia c'è stato un referendum cioè un momento in cui i cittadini votano e scelgono tra due possibilità la seconda guerra mondiale era finita da poco gli italiani dovevano scegliere se volevano essere governati da una monarchia cioè il governo di un re oppure da una repubblica cioè il governo del popolo gli italiani hanno scelto la repubblica per questo ogni anno il 2 giugno in italia si celebra la festa della repubblica italiana il referendum del 2 e 3 giugno 1946 è stato molto importante anche perché per la prima volta le donne hanno votato il 2 giugno il presidente della repubblica italiana ricorda con una corona di alloro e fiori le persone morte in guerra questa è una corona ed è fatta di alloro e di fiori le frecce tricolori volano nel cielo le frecce tricolori sono un gruppo di aerei speciali ora vediamo il verbo scegliere tempo presente io scelgo tu scegli lui lei sceglie noi scegliamo voi scegliete loro scelgono tempo passato prossimo io ho scelto tu hai scelto lui lei ha scelto noi abbiamo scelto voi avete scelto loro hanno scelto e infine vediamo il verbo votare tempo presente io voto io voto tu voti lui lei vota noi votiamo voi votate loro votano tempo passato prossimo tempo passato prossimo io ho votato tu hai votato lui lei ha votato noi abbiamo votato voi avete votato loro hanno votato buona festa della repubblica italiana io ho scelto